I sopravvissuti al sisma ricordano il dramma vissuto nella notte, interminabile l'attesa dei soccorritori, giunti in un primo momento senza i mezzi, alti a scavare. Intanto le speranze di trovare in vita le persone sotto le macerie si affievoliscono di ora in ora. Guido Reni e la magnificente bellezza. Capolavori da Ascoli Piceno. Visita la mostra e contribuisci al restauro delle opere d'arte danneggiate dal sisma che ha colpito le marche. Nicosia, chiesa di San Calogero, 31 maggio 5 novembre 2017. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS